Hai problemi di oidio su vite e melo? Con Sideli. Sconfiggi l'oidio, prove alla mano. Sideli è il nuovo antioidico Singenta che ha superato brillantemente tutte le prove in campo. Sideli. Un nuovo meccanismo d'azione per ottenere produzioni sane e di qualità. Un'efficacia superiore nella protezione dei grappoli. La sicurezza in cantina e export dei vini nel mondo. Prove alla mano. Con Sideli. Sconfiggi l'oidio della vite e del melo. Da Singenta. Grazie a tutti.